L'Italia è sempre stata un paese di furbi, o meglio di furbetti, prima quelli del cartellino e, tra l'altro, come abbiamo già riferito in un recente angolo, continuano imperterriti. Poi i furbetti dello scuola bus, come l'autista di Cisano che si è fatto beccare dai carabinieri mentre utilizzava il pumbino e faceva i fatti suoi. Lo hanno arrestato, ma ci sono anche i furbetti che transitano pieni di bori a su auto con targa estera. Sono quelli che non pagano il bollo e l'assicurazione in Italia e che se ne fregano dei divieti da quello di sosta a quello di velocità. Per loro è anche possibile sfrecciare in autostrada in barba a tutor e autovelox. Intanto le multe non le pagano perché non arrivano. Troppo dispendioso per lo Stato cercare di trovare il proprietario della vettura registrata in Bulgaria piuttosto che in Germania. Ma anche per loro pare che la pacchia sia finita. La chiamano esterovestizione perché la residenza fiscale all'estero di società permette di non pagare le tasse in Italia. Ma non sarà più così perché, stando alle intenzioni del ministro Toninelli, per chi avrà la residenza in Italia da più di 60 giorni non potrà più circolare con targa straniera. Speriamo che non accada, come spesso avviene, che non valga ancora il detto. Fatta la legge, trovato l'inganno.